La Fiorentina alla fine ha deciso. Beppe Iachini è stato esonerato. Al 56enne l'allenatore costano caro i deludenti risultati di questo inizio di stagione in campionato con la viola 12esima con soli 8 punti. Lo 0-0 del Tardini contro il Parma resterà dunque l'ultima partita di Iachini con la Fiorentina poco meno di 11 mesi dopo il suo annuncio come successore di Vincenzo Montella. Al suo posto torna Cesare Prandelli che è stato il tecnico dei gigliati dal 2005 al 2010 guidandoli anche nella Champions League. A commentare la notizia dell'esonero di Iachini anche il presidente Biola Rocco commisso sul sito della società. Prima di tutto voglio ringraziare personalmente Beppe Iachini, allenatore capace e determinato che nel momento più difficile della scorsa stagione ha trascinato e guidato la squadra col suo lavoro, la sua dedizione e il suo carattere. All'indomani della settima vittoria nel campionato su sette gare l'Olimpia Milano ha comunicato la sospensione dell'attività della prima squadra dopo aver riscontrato numerosi casi di positività al coronavirus. Nella serata di lunedì è apparso questo comunicato sul sito della società meneghina. La pallacanestro Olimpia Milano comunica che a seguito dei test effettuati nella serata di domenica come da protocollo, nel gruppo squadra sono emersi numerosi casi di positività al covid-19. Pertanto l'attività della squadra è stata immediatamente sospesa. I soggetti positivi, tutti totalmente asintomatici, stanno seguendo in isolamento le procedure previste dal protocollo sanitario. Tutto il gruppo squadra verrà sottoposto nella giornata di martedì 10 novembre ad un ulteriore test di verifica. La società è immediatamente provveduta ad informare l'ATS e attende istruzioni in emerito. Andrea Dovizioso ha deciso di prendersi un anno sabbatico. Dopo non essere riuscita a raggiungere un accordo con la Ducati per il rinnovo di contratto, il pilota ha deciso di non correre in MotoGP per il 2021. Nonostante l'interesse di molte case, Dovizioso ha preferito prendersi un anno di tempo per dedicarsi alla sua grande passione, il motocross. In questo modo, il forlibese spera di farsi trovare pronto nel caso in cui dovesse presentarsi una nuova occasione nel 2022. Una notizia che era nell'aria e che ora diventa ufficiale. Il campionato del mondo di Formula 1 del 2021 avrà in calendario anche il Gran Premio d'Arabia Saudita. La gara si disputerà sul circuito di Jeddah nel mese di novembre. Chase Carey, presidente e CEO della Formula 1, dichiara Siamo entusiasti di dare il benvenuto all'Arabia Saudita in Formula 1 per la stagione 2021 e accogliamo con favore il loro annuncio a seguito delle speculazioni degli ultimi giorni. L'Arabia Saudita è un paese che sta rapidamente diventando un centro per lo sport e l'intrattenimento, con molti eventi importanti che si svolgono negli ultimi anni. Il calendario provvisorio completo sarà reso noto nelle prossime settimane per essere poi sottoposto all'approvazione del World Motor Sport Council. Grazie a tutti.